E' stata trovata in Prefettura la soluzione alla crisi idrica di Naro. Per più di un mese la crisi idrica rischiava di creare problemi all'ordine pubblico a cagione della sessperazione dei cittadini. Proprio per questo l'amministrazione comunale di Naro, accogliendo le problematiche dei cittadini, ha chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura. Grazie all'interessamento del Prefetto Nicola Diomede e al fattivo intervento del Capo di Gabinetto della Prefettura Rosaria Giuffre, il problema si avvia a soluzione. Al tavolo tecnico, nella sede centrale della Prefettura, la Giorgenti Acqua e il Consorzio tra i sorgenti hanno immediatamente trovato l'accordo per assicurare a Naro l'acqua che gli spetta. La prima decisione assunta nel corso del tavolo tecnico è stata che Giorgenti Acqua provvederà immediatamente alla riparazione delle tubazioni lungo tutto il tragitto delle condotte d'adduzione e ispezionerà i siti interessati insieme al personale del Consorzio tra i sorgenti per individuare eventuali altri guasti o perdite nelle condutture da riparare entro e non oltre due giorni. La seconda decisione riguarda invece l'immediato riempimento dei serbatoi di testata dei comuni alimentati dall'acquedotto tra i sorgenti a mezzo di una fornitura straordinaria da parte di Sicilia Acqua e S.P.A. Dopo questi interventi si contabilizzeranno i litri d'acqua al secondo recuperati per redistribuire la portata idrica aggiuntiva ai comuni del Consorzio tra i sorgenti e normalizzare la dotazione del comune di Naro. All'incontro hanno partecipato Lillo Cremona e Lidia Mirabile, sindaco e vice sindaco di Naro Giuseppe Milano in rappresentanza dell'autorità d'ambito per il servizio idrico, Marco Campione e Gia Domenico Ponzo rispettivamente presidente e amministratore delegato della Girgenti Acque, Mauro Porcelli presidente del Tre Sorgenti e Mario Cassarà commissario ad acta presso il Tre Sorgenti.